L'associazione Arcanum et Fregelle ha presentato ufficialmente la seconda edizione del premio internazionale della letteratura Città di Arce. Poeti di tutto il mondo anche quest'anno avranno la possibilità di proporre ai loro versi le loro opere grazie all'iniziativa ideata e promossa da Massimo De Santis. Tra le novità dell'edizione 2017 è la location della presentazione nel suggestivo Palazzo Ladislao a Darpino, anticipata al mese di maggio. Posticipata al 26 novembre a Darce invece la data della premiazione per permettere un miglior lavoro alla giuria. L'intento del premio è quello della promozione del dialogo tra i popoli attraverso la letteratura, innocua fonte di incontro tra culture diverse, fra mondi diversi. Siamo qui a Darpino che è la patria di Cicerone, siamo presso la fondazione Mastroianni, luogo d'eccellenza della cultura della nostra cioceria, ma anche sede della Dante Alighieri, comitato di Arpino. Un posto importante e questo serve per far capire agli autori di tutto il mondo la bontà del nostro premio. Quindi acquisteremo un valore intrinseco promuovendo il premio al di fuori della nostra cittadina, anche se poi la premiazione avverrà naturalmente ad Arce perché il premio è di Arce. Le poesie saranno selezionate da un'apposita giuria di esperti presieduta quest'anno dal rettore dell'Università degli Studi di Cassino, Giovanni Betta. Mi ha fatto piacere far parte di questa giuria, ma ho lasciato con piacere le valutazioni più tecniche ai miei compagni di avventura. La scelta l'anno scorso è stata in alcune sezioni molto impegnativa perché è un premio che già dalla prima elezione ha avuto tantissime adesioni. E quindi mi fa molto piacere essere qui anche quest'anno a testimoniare come l'Università veda molto bene questi tipi di iniziative. Al vincitore andrà la scultura Simbolo della Pace realizzata da Francesco Marcangeli. Sì, Simbolo della Pace è su di un mondo dilaniato praticamente, quello che stiamo vivendo proprio attualmente, proprio in questi momenti, in questi giorni. Siamo sempre sull'orlo di una guerra, come per l'anno scorso, anche quest'anno partirà da Arce un forte messaggio di pace per tutto il mondo. Speriamo che venga raccolto.